Val Comelico nelle Dolomiti Bellunesi si disputerà la Pitturina Ski Race, una gara di sci alpinismo che ambisce ad entrare tra le classiche di questa disciplina in grande crescita. Il servizio è di Luca Ginetto. Salite e discese tra i boschi e le vette incontaminate della Val Comelico sulle Dolomiti Bellunesi. È qui che domenica prossima si terrà la terza edizione della Pitturina Ski Race, la gara di sci alpinismo inserita nel circuito della Coppa delle Dolomiti. È una manifestazione che ormai è entrata di diritto nelle più importanti manifestazioni di sci alpinismo dell'arco alpino. Ha un obiettivo e un sogno molto importante che è quello di raggiungere la Coppa del Mondo e appunto per diventare nei prossimi anni una tappa di questo prestigioso appuntamento. Quella di domenica infatti non sarà un'edizione come le altre. La Pitturina sarà visitata da un giudice internazionale che valuterà tutte le capacità del comitato organizzatore, non solo gli aspetti tecnici ma anche logistici, di ricettività e quant'altro. Verrà stilata una scheda e poi tutto sarà in mano all'ISMF che è l'organismo internazionale dello sci alpinismo che deciderà se affidare alla Val Comelico questo importante appuntamento. Il termometro di una disciplina sportiva sempre più praticata da atleti di ogni età. I paesaggi incontaminati e la bellezza di questo sport fanno sì che i numeri siano, ci sia un trend in continua crescita proprio per la bellezza dei paesaggi e per la fatica che si fa per raggiungerli senza l'aiuto di impianti di risalita ma solo con le proprie gambe e il proprio fiatto.